Per fare ricerche più complesse possiamo optare per la ricerca combinata. Quando dobbiamo fare ricerche complesse o quando semplicemente dobbiamo provare diverse ricerche prima di trovare i termini giusti, possiamo utilizzare la ricerca combinata. E se ci permette di unire più ricerche fatte attraverso la ricerca base oppure avanzata o tramite il Thesaurus. Ma vediamolo subito in pratica. Cerchiamo l'argomento della preparazione all'adozione, in particolare dal punto di vista del genitore che adotta. Dobbiamo cercare un concetto alla volta e poi unirli in un secondo momento attraverso la ricerca combinata. Cerchiamo ad esempio nel Thesaurus i genitori adottivi, quindi Adoptive Parents. Troviamo il descrittore Adoptive Parents, quindi lo selezioniamo e clicchiamo su Search. Il termine è stato riportato nella stringa. Con questa prima ricerca sui genitori adottivi troviamo 177 risultati. Adesso cerchiamo invece con la ricerca base il concetto della preparazione. Andiamo nella ricerca base, Basic Search e scriviamo Preparation. Mettiamo anche un sinonimo che poteva essere Support, quindi OR per indicare il sinonimo, Support. E lanciamo anche questa ricerca. Questa è una ricerca molto ampia, tant'è che trova 71.833 risultati. Non vi spaventate però per il numero elevato di risultati. Infatti adesso andremo ad unire questa ricerca con la prima e i risultati si ridurranno drasticamente. Per unire le ricerche bisogna andare a vedere lo storico delle ricerche fatte in questa sessione. Lo troviamo in alto alla pagina dove c'è scritto Recent Searches 2. Stiamo attenti perché lo storico si perde se chiudiamo anche inadvertitamente la pagina. Qui noi ritroviamo le due ricerche che abbiamo appunto fatto in questa sessione. Per unirle, quindi attraverso la ricerca combinata, possiamo seguire l'esempio che c'è anche in alto. Quindi noi dovremmo unire la ricerca 1 con la 2, mettendo tra queste l'operatore AND. Quindi 1, AND, 2. Noi vogliamo infatti che i due concetti siano entrambi presenti. Search Abbiamo trovato in questo modo 44 risultati.